Ecco papà, io sarò sempre vicino a te nella vita, ti aiuterò a superare gli ostacoli, ti aiuterò a fare una buona scelta di studio, ma soprattutto la cosa più importante ti aiuterò ad attraversare i marciapiedi della tua città. Ecco papà, questo è il primo vero ostacolo per te, la tua prima palestra, camminare nella giungla, la giungla papà, la giungla dei marciapiedi vastesi, ce la facciamo, ce la facciamo, dai 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 dai!